Questo quartiere è bellissimo perché ci siete voi che siete davvero i protagonisti della vita, qui vi esprimete, vi realizzate guardando al futuro, con l'impegno in questo comitato di essere padroni del futuro di questo quartiere, di organizzarlo al meglio possibile e farlo sviluppare in modo conforme alle esigenze dei ragazzi che crescono. La vostra volontà riuscirà a superare ogni ostacolo, voi siete un risultato di questo quartiere e siete un magnifico risultato. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con i ragazzi del punto luce di Save the Children a Ostia, il presidente dopo aver ricevuto due doni dei ragazzi dei laboratori di artigianato e di fumetto del centro, ha detto grazie per questi doni, questo esprime un'ispirazione artistica molto bella.